Benvenuti all'Octavious Bar The Stage Milano, io sono Francesco e oggi vediamo il 24 Degrees of Bala. Colmiamo per circa tre quarti per avere il giusto bilanciamento tra raffreddamento e diluizione. Scorch Whisky, 50 ml. Un vermouth contemporaneo, 25 ml. Americano Bianco, un aperitivo piemontese a base di uve moscato, 10 ml. Ferrocchina, un liquore della tradizione, poche gocce. Malaschino, un grande classico, poche gocce. Un drink elegante, rotondo, ma di corpo. Il ghiaccio è molto importante per la presentazione del drink, grazie anche all'iceball di Ice Cube. 24 Degrees of Balance, salute! Grazie a tutti!